Quanto è importante anche per gli artisti del Friuli Venezia Giulia questo premio? Beh, è importante come una buona salute perché qui si vive di cultura, è una giornata di cultura e la cultura in Italia che è sempre molto disprezzata, oggi viene elevata ai massimi valori e questo vale, ripeto, per la buona salute. Quindi un appuntamento che deve continuare, secondo lei, a restare qui in Friuli Venezia Giulia, a restare qui a Percotto? Ma assolutamente, poi Friuli Venezia Giulia è un grande bacino di cultura, di intellettuali che spesso dispreziamo o che non hanno il loro valore, qui per un giorno all'anno hanno quello che meritano.